Che cos'è il gruppo indagini del CICAP? Di che cosa si occupa? Ma soprattutto, come fa ad aiutarmi se pensi di aver visto un fantasma o un UFO? L'ospite di oggi, che risponde a queste e a molte altre domande, è Andrea Berti, il coordinatore del gruppo indagini del CICAP. La puntata si chiama La lente della scienza, il gruppo indagini con Andrea Berti, e la potete trovare su tutte le principali piattaforme di podcasting. Buon ascolto! Ma ciao Diego, quanto tempo! Ma davvero? Ciao da Sara, come stai? Tutto bene, tutto bene. E come stai? Beh, insomma, mi porto dietro gli acciacchi di stagione, ma ne sto uscendo vincitore anche quest'anno. Vabbè, è stagione che è primaverile, con quando uscirà questa puntata, quindi nel senso che nessuno si sente minimamente la differenza. No, vabbè, ma è stata registrata in inverno, ma è stato in inverno primaverile, quindi voglio dire, ma sappiamo tutti che sono gli sbalzi di temperatura, quello che ti frega, ma... Quindi ce lo aspettiamo anche ad aprile o giù di lì, quando uscirà la puntata. Esattamente, non fa nessuna differenza, noi pensiamo quadrimensionalmente. Davvero. Ma stasera, Diego, parliamo di una cosa molto interessante. Chi ci ascolta l'ha già visto dal titolo e dall'ospite che è con noi, però detto tra noi due, oggi parliamo di indagini. E tra l'altro tu fai parte del gruppo indagini del CICAP ovviamente. Sì, faccio un passo indietro. Infatti, infatti, parliamo di indagini, ma perché all'interno del CICAP c'è proprio un gruppo di persone che si chiama gruppo indagini, del quale il coordinatore è con noi stasera. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ciao Andrea. Per introdurlo al volo così. Dicevo che il gruppo indagini del CICAP infatti è composto proprio da persone che hanno l'obiettivo di raccogliere informazioni che ci vengono richieste, che vengono richieste da chi ci segue e dagli interessati, che hanno qualcosa di particolare, che hanno visto qualcosa di strano, che hanno sentito qualcosa che non si spiegano. E da lì parte la cosiddetta indagine. Ma mi rendo conto che sto portando via Spazio Andrea, che è il coordinatore di questo gruppo e che sicuramente può spiegarlo meglio di me. No, metto però le mani avanti appunto dicendo che evito di fare le scenette del tipo faccio finta di non sapere che cos'è, perché anche io ne faccio parte. Vabbè, cappello fuori, cappello dentro. Dai, non è che fa tanta differenza. Siccome ne faccio parte, ho pensato che sarebbe stata una bella cosa invitare il coordinatore a parlarci di questo gruppo. Ed eccolo qua. Grazie Andrea di aver accettato il nostro invito, ovviamente. Grazie a voi dell'invito. Da quando è che inizia il gruppo indagine? Dicci un po'. Allora, il gruppo indagine del CICAP ha questo assetto dal 2015. Dopo una riunione del direttivo con i coordinatori dei gruppi locali, si era deciso a Bologna di istituire questo gruppo di lavoro e di far confluire in questo gruppo tutti quei soci che già da prima, dai lontani anni 90, lavoravano alle indagini un po' o singolarmente o in piccoli gruppi sparsi sul territorio nazionale. Allora abbiamo iniziato a ingigantire questo gruppo, ad alimentare questo gruppo indagini, inserendo dei nomi che non potevano mancare. Nel gruppo indagini fanno parte Massimo Polidoro, Luigi Garlaschelli, Marco Morcutti, Silvano Fuso, Armando De Vincenti, Francesco Grassi giusto per citarne alcuni. Quindi quelle persone che hanno reso anche il CICAP famoso nel corso degli anni e che non potevano certo mancare in questo nostro gruppo. Io pensavo fosse molto più antico, passami il termine, vista la storia del CICAP avrei detto che il gruppo indagini era attivo da più tempo. Come ti dicevo c'erano dei piccoli gruppi che lavoravano tantissimo, per esempio il gruppo piemontese ha sempre portato avanti un sacco di indagini e poi persone quali Garlaschelli, De Vincentis, che magari lavoravano singolarmente su vari casi, sul territorio di loro competenza. In questo gruppo nuovo che abbiamo fondato nel 2015 abbiamo avuto la magnifica opportunità di lavorare tutti in rete. Il gruppo attualmente comprende 36 persone sparse su tutto il territorio nazionale, ci scambiamo le informazioni via mail, a volte ci troviamo su qualche piattaforma per qualche videoconferenza quando c'è necessità ed è interessantissimo comunque mettere assieme tutte le conoscenze e le competenze che arrivano da tutta Italia e in più avendo come base il sostegno di queste colonne portanti del CICAP come Massimo, Marco e tanti altri. Sì, effettivamente c'è forse un aspetto forte del gruppo indagini appunto di avere all'interno un gruppo di persone molto eterogene e ognuno può portare un piccolo contributo in base alle proprie esperienze, alle proprie capacità al di là di quei nomi storici che hai nominato prima che sicuramente non portano piccoli contributi ma grandi contributi però anche in realtà magari molto di nicchia, molto particolari anche semplicemente dal punto di vista tecnico, caspita spesso le cose che affrontiamo sono complesse dal punto di vista tecnico e avere tecnici nel gruppo aiuta ovviamente. Infatti una delle cose più belle del nostro gruppo è quello che c'è sempre qualcosa da imparare da qualcun altro perché uno potrebbe essere un fisico nucleare però poi non sapere niente di piante velenose uno può essere un chimico ma non sapere niente di come funziona la fotografia e quindi quando abbiamo un'indagine e io come coordinatore coinvolgo il gruppo intero è interessantissimo lo scambio di mail che parte da quel momento perché tutti possono dire la loro però poi arriva quello che è esperto di un certo argomento che può far luce sul dato fenomeno e tutti dal fisico al chimico all'ingegnere possono tutti imparare qualcosa di nuovo che prima non sapevano. Ma facendo un passo indietro così questo era un passo avanti famone uno indietro di preciso il gruppo indagini ditemi siete i Ghostbusters del C-Cup? Cioè cosa fate? Questa è la parte seria no? Certo. Ma io non so come la pensa Diego ma allora se immaginiamo i Ghostbusters come quelli del film che andavano in giro con strumenti... Bello! Cioè Diego ti vedrei benissimo. Guarda che un'indagine l'ho fatta tanto tempo fa e non avevo zaino protonico però... Esatto zaino protonico e trappole per i fantasmi e i gabbi di contenimento no? Mi sembra... Quelle purtroppo non ce l'avevo però direi che... L'indagine sul territorio a volte esiste ancora sì. No l'indagine sul territorio è utile e spesso è anche interessante, intrigante, divertente e istruttiva però ecco non come la tensione cinematografica e neanche come a volte si vede in qualche video su YouTube dove ci sono persone che vanno a caccia di fantasmi infilandosi, intrufolandosi in luoghi abbandonati, abitazioni disabitate, a mio avviso a volte mettendosi anche un po' in pericolo perché è un attimo farsi male. Io ripeto sempre che è più facile diventare un fantasma che vederne uno No, noi cosa facciamo? Noi facciamo indagini su... Prima di tutto su casi che ci vengono segnalati quindi non siamo noi a andare a cercare i fantasmi il massimo sono i fantasmi che vengono a cercare noi e appunto ci basiamo su quelle che sono le segnalazioni che ci vengono fatte e prendiamo in analisi queste segnalazioni e io ci tengo sempre a dire che spesso bisogna ridimensionare molto il fenomeno del mistero perché agli occhi dei non addetti ai lavori spesso i misteri che le persone ci dicono ho la prova assoluta che esiste il fenomeno paranormale X poi ce lo spiegano e il fenomeno paranormale X ai nostri occhi diventa una semplicissima spiegazione quindi è normale che se uno non è un addetto ai lavori in questo campo può vedere davvero di tutto Ma quante domande vi arrivano annualmente? Allora diciamo che ci sono annate più abbondanti, altre un po' meno ma siamo sulle 200-300 richieste all'anno 200-300? Accidenti! Sono un monte! Sono tante, sì, sono tante Ok, siete anche in 30 però quindi magari non è un lavoro così, diciamo, oberante No, in realtà arrivano tutti a me Ma hai detto prima che non ti arrivavano a noi nuovi smith No, dai, non è vero Andrea, in realtà arrivano a tante persone che le girano tutte a te Esatto, esatto Sì, sì, io ricevo queste mail che poi giro al gruppo indagini cercando di anonimizzarle un po' appunto per la questione di privacy di cui parlavamo prima Quindi se ci sono nomi, indirizzi, dati molto sensibili io li elimino Tanto a noi interessa il caso misterioso In modo tale che ci sia meno rischio di perdite di dati sensibili Comunque il flusso di mail, di richieste è notevole ed è impressionante come nel 2024 ci siano ancora tante persone che credono ai fenomeni paranormali Ai fantasmi e quindi siamo contenti che si rivolgono al CICAP Perché vuol dire che con l'associazione sanno che siamo delle persone che si interessano a questi fenomeni e quindi ci chiedono spesso di aiutarli a trovare una soluzione razionale perché per loro non ci sono arrivati Andrea, tu che hai un po' più di storia di me ovviamente nel gruppo Ricordi una sorta di ciclicità nelle domande che riceviamo? Magari, non lo so, anni in cui si parla di più di determinati argomenti per qualche motivo particolare Hai notato trend di questo genere? Direi di no, ciclicità no C'è stato soltanto un caso in questi ultimi anni con la realizzazione degli Starlink Sono aumentate le richieste a proposito di avvistamenti di misteriose lucine nel cielo Aspettate, Starlink? Qualcuno mi aiuta? Sono i satelliti di Elon Musk che lancia blocchi di 60 Esatto, esattamente Anche avevo questo ricordo, forse si chiama in un'altra maniera che era quella specie di chip impiantato per la comunicazione a distanza non si chiama forse così, forse è un altro nome No, quello è Neuralink Ah, è tutto link, vabbè d'accordo, scusate Torniamo a noi Non abbiamo ancora casi misteriosi legati a Neuralink per adesso È un fenomeno particolare, anche particolarmente bello da osservare nel cielo e se uno non sa che sono questi satelliti artificiali chiaramente si vede queste lucine che passano tutte una dopo l'altra e quindi la prima cosa che viene in mente è ho visto una flotta aliena in avvicinamento Io avrei detto comete No, qualcosa che scende dal... No, comete no No, perché sono troppe, troppo regolari uno dopo l'altro Scia di comete Sarebbe veramente bello per scia di comete così visibili sarebbero sui giornali No, ma chiaramente io non ho alcuna base scientifica sulle astro cose quindi ovviamente sparo a caso qui Ok, no, vabbè immagino che comunque come te e moltissime altre persone ed è anche per questo che arrivano segnalazioni per questo genere di argomenti Che altri argomenti riceviamo regolarmente Andrea? Ci sto per fare un'idea, un excursus generico su che cosa trattiamo di solito Sì, abbiamo il grosso capitolo delle foto misteriose Anche qui ci sarebbe da parlare un sacco perché che cosa è successo? Con l'avvento della fotografia digitale soprattutto quando tutti abbiamo in tasca un cellulare che fa foto il numero delle fotografie che facciamo è aumentato a dismisura tutti fanno foto a qualsiasi cosa e il problema è che spesso le foto sono brutte e le persone a volte fanno talmente tante foto senza neanche riflettere e poi non sanno dare una spiegazione a cosa hanno fotografato questo non succedeva quando c'erano all'epoca delle fotografie analogiche con la pellicola perché tu portavi il a parte che ne facevi molto meno perché il rullino aveva un costo lo sviluppo aveva un costo ma tu portavi il rullino dal fotografo il fotografo eliminava già lui le fotografie che riteneva brutte Esatto, perché ce n'era una quantità notevole di foto venute male che non sono rimaste nel mio telefono ma che ha buttato via direttamente il fotografo è vero e le eliminava e quindi ti ridava magari poche fotografie tra virgolette belle e tu eri contento oggi tutti fanno foto a qualsiasi cosa e quindi può capitare a volte di vedere cose strane particolari ai quali poi non si riesce a dare una spiegazione e la prima cosa che dicono ho fotografato un fantasma, ho fotografato il mostro, ho fotografato l'UFO anche lì UFO inteso ovviamente per i non addetti ai lavori UFO è uguale astronave aliena cosa che in realtà non è corretto perché UFO vuol dire un qualsiasi oggetto volante che non sono riuscito a identificare questo non vuol dire che allora ho visto un'astronave aliena ho visto un oggetto a cui non sono riuscito a dare un nome una spiegazione al di là delle foto poi altri media ma tipo carti, cartacee, vi è arrivato mai niente di cartaceo? di cartaceo, nel senso le richieste cartacee? no no no, che magari hanno la vostra indagine era su un oggetto cartaceo quindi magari le immagini tutte digitali quindi arrivano per mail eventualmente sì, perché ormai le fotografie stampate non le fa più nessuno ma tipo ho trovato nella cantina di nonna delle foto in cui è chiaramente la foto di un fantasma della bisnonna cioè una cosa così tipo forse il Cicap aveva indagato tanti tanti anni fa su cose del genere però chiaramente è passato è passata l'epoca di quella tipologia di misteri e audio e video? magari anche lì audio e video sì, un sacco oggi ne arrivano tanti arrivano registrazioni fatte con il cellulare sia audio sia video spesso sono semplici interferenze sono rumori che normalmente troviamo nelle nostre case o fuori casa attorno a noi ma quando le riascoltiamo il nostro cervello si attiva e iniziamo a tentare di riconoscere quei suoni e ognuno poi gli dà un'interpretazione esotica e può trovarci qualunque ma mentre di avete casi in cui ci sono delle persone che sostengono di avere delle doti particolari extrasensoriali o non so come si dice il CICAPA è indagato tanto nel passato su queste persone già negli anni 90 ci sono stati casi molto interessanti che si ritrovano ancora negli archivi del CICAPA credo ancora su internet ci sono ancora qualche video che ne parla ultimamente anche con Diego si ricorderà che abbiamo indagato una presunta sensitiva che diceva di saper leggere un po' nel pensiero delle persone anche a distanza e poter capire ciò che la persona aveva davanti agli occhi in quel momento quindi se io sto guardando per esempio un oggetto davanti a me in questo momento l'avrei comunicato telepaticamente a questa sensitiva e lei avrebbe disegnato l'oggetto che io avevo davanti agli occhi allora abbiamo messo alla prova questa signora che è stata tra l'altro molto gentile perché si è prestata a un incontro prima via videoconferenza con noi e poi l'abbiamo incontrata di persona abbiamo mandato i nostri colleghi locali a incontrarle e hanno fatto un test che ha dimostrato che le sue percezioni non erano reali era soltanto una sua idea e lei si era un po' convinta di saper fare questa cosa ma in realtà poi alla prova dei fatti non avveniva e ci è rimasta male scusami Diego non lo so non ci è rimasta male perché lei voleva capire se era vera o no questa sua capacità è stata molto brava tra l'altro a a mettersi in gioco sono però un po' le eccezioni le persone che sono così disposte a mettersi in gioco evidentemente questo sì ricordo questo caso ma come era stato costruito il test per mettere alla prova se vuoi quello che questa signora sosteneva avevamo una nostra socia che aveva davanti a sé delle carte che avevamo predisposto noi con dei disegni con varie forme e colori e lei ne feglieva una la fissava per un certo numero di secondi e la la sensitiva doveva poi dire che carta che carta era la sensitiva conosceva tutte le forme presenti nel mazzo di carte e quindi doveva indovinare la forma giusta e quindi questa cosa era prima stata concordata con la sensitiva quindi ha partecipato anche lei alla costruzione dell'esperimento esatto perché era l'unico modo per capire se la se la sua percezione era reale oppure no perché lei cosa faceva inizialmente disegnava delle forme però queste forme potevano essere riconducibili o meno all'oggetto osservato dall'altra persona sai uno può sempre trovare ah sì ma un po' gli assomiglia in realtà se io se io sto guardando un fiore e tu mi disegni un quadrato difficilmente posso posso abbinarlo e quindi il test era stato fatto prendendo accordi con la signora che aveva accettato le condizioni del protocollo di intesa e quindi aveva dato poi il risultato negativo per definire questo protocollo ricordo che comunque non è stata una passeggiata c'è stato un bel po' di dialogo all'interno del gruppo perché è estremamente importante definire un protocollo che sia fattibile funzionale che venga anche accettato e che non venga visto come eccessivamente oneroso da parte di chi deve sottostare altrimenti salta tutto essenzialmente però ricordo che è lunga la costruzione del protocollo esatto perché i nostri colleghi matematici si erano messi a fare calcoli per trovare la giusta combinazione il giusto equilibrio di prove da fare e prove da superare per passare questo test quindi bisognava fare i famosi conti con la brutta bestia che è la statistica e quindi si è stabilito il protocollo è stato poi firmato da me come rappresentante del gruppo indagine del CICAP e dalla signora e poi si era si era iniziato questo test in loco avevano trovato una sede nella zona dove abitava la donna e quindi si era si era fatto questo test di persona la signora poi si è convinta ha capito che non era una capacità che aveva davvero ma ti va se facciamo una specie di gioco una simulazione di una soluzione di un caso supponiamo questa immagine io esco fuori in balcone vedo un cielo meraviglioso noto un qualcosa di particolare che faccio gli faccio una foto gli faccio un video come te lo mando dalle tue parti invece che cosa succede ok allora si immaginiamo di essere all'aperto di vedere una cosa strana che si muove nel cielo allora di queste segnalazioni ce ne arrivano davvero tante prima di tutto bisogna restare con i piedi per terra e quindi dire non è che perché ho visto una lucetta strana che si sposta nel cielo allora devo gridare all'ufo all'ufo perché potrebbe essere un oggetto volante che io in quel momento non riesco a identificare ma che ha assolutamente un senso che è un velivolo normale non deve per forza arrivare ad un altro pianeta questo oggetto volante una cosa importante è quella di indicarci scriverci e indicarci la data l'ora di avvistamento il luogo esatto in cui è stato in cui in cui ti trovavi quando hai fatto l'avvistamento quindi ero all'incrocio di via verdi con via rossi da questo punto di vista le foto con il cellulare aiutano perché hanno di posizionamenti gps e quindi spesso per lo meno nelle foto e poi anche la direzione in cui stavo osservando l'oggetto perché sono all'incrocio della via verdi con via rossi ma da che parte l'ho visto l'ho visto guardando verso nord verso sud eccetera eccetera poi se si riesce a fare un video meglio perché la fotografia che cosa succede se tu con un cellulare fai una foto di un oggetto luminoso nel cielo buio ti viene un pallino sgranato non si capisce assolutamente nulla non serve a poco il video anche lì dipende da che cellulare hai quant'è l'immagine quant'è buona l'immagine comunque si cerca di riprendere l'avvistamento e poi è importante anche continuare a osservarlo anche con gli occhi questo oggetto per vedere come si comporta per esempio che luminosità se se lampeggia qualche cosa oppure una luce fissa se ha un movimento lineare o zig zag se va solo avanti o torna anche indietro insomma ci sono tante cose da osservare e anche come si esaurisce questo avvistamento cioè a un certo punto questa lucina sparisce dietro una montagna sparisce dietro una casa che mi sta davanti oppure si spegne improvvisamente nel cielo perché sono tutte indicazioni che possono aiutarci a capire la natura reale di questo oggetto perché per esperienza di 30 anni di cicap da chi è nel cicap da così tanto ne abbiamo viste di tutti i colori e quindi abbiamo un po' di idee di cosa potrebbero essere questi strani oggetti e si va da lanterna cinese lasciata in volo droni aerei o addirittura satelliti artificiali c'è chi ha scambiato venere per un UFO cosa facciamo noi una volta che abbiamo tutti questi dati confrontiamo questi dati con per esempio le mappe del cielo cosa si vedeva quella sera quell'ora nel cielo da quel punto quali pianeti quali stelle quale costellazioni quali satelliti artificiali si vedevano in quel momento ci sono i siti che indicano le rotte degli aerei che ci mostrano tutti gli aerei in volo quindi è possibile capire se di lì stava passando un velivolo di linea e poi appunto si guarda se c'è il video si guarda la natura di questo fenomeno e si può trarre qualche conclusione non è facile non sempre si riesce perché spesso le persone sono talmente attirate dal luffo proprio propriamente detto nel senso è una cosa che non capisco che l'unica cosa che vogliono fare e filmarlo e poi non si ricordano più dove erano quando l'hanno fatto che ora era e quindi lì si perdono tantissime informazioni e poi diventa molto complicato risalire alla natura dell'oggetto ma proprio a livello di comunicazione interna del gruppo diciamo visto un video del cielo così te lo daresti in pasto a gente che si occupa di astrocose immagino cioè non ho capito tu diresti non lo so nel senso siccome per quello che ci hai detto hai detto coordinate gps situazione del cielo situazione diciamo della della parte superiore dell'atmosfera quindi avrei detto a qualcuno a un astrofisico a una persona che può avere queste informazioni di sicuro non a uno psicologo oppure a un ingegnere informatico a uno certo ma è per quello che nel gruppo indagini abbiamo tanti tipi di persone diverse con background diversi quindi possiamo mettere in comune le nostre capacità le nostre conoscenze e formulare ipotesi realistiche se ci pensi l'ingegnere informatico serve perché se hai del materiale informatico che mi spedisci già lì il punto di partenza è importante per poter non prendere cantonate fin dall'inizio rendersi conto che la foto è un originale piuttosto che un inoltre da whatsapp fa molta differenza per esempio oppure vedere che il video è stato fatto con una tal macchina fotografica e non con un'altra mi permette di rendermi conto delle caratteristiche dell'ottica di questa macchina e quindi depennare immediatamente certi fenomeni perché so che con quel tipo di ottica non possono succedere oppure l'opposto certe foto fatte al tramonto dove si vedono luci strane verdi riflessi in aria dove non dovrebbero essere spesso sono artefatti dell'ottica della macchina fotografica che da qualcun esperto di fotografia è in grado subito di beccare a colpo d'occhio ci sono anche degli schemi molto carini che puoi disegnare sulla foto dove se tu fai una foto e il sole è posizionato in una certa porzione della foto specularmente dall'altro lato probabilmente ci sarà questo riflesso strano che può essere proprio identificato anche con delle linee geometriche sono cose da informatico questo non direttamente da fotografo ma anche da informatico quindi da questo punto di vista è molto importante anche quella e poi c'è tutta la parte che diceva prima Andrea della ricerca geografica che ricordo anche un caso di recente che avevamo visto che è stato molto importante riuscire a trovare la posizione precisissima di dove erano avvenute due osservazioni con due video del cielo per poter ricostruire quello che probabilmente era successo quindi è fondamentale anche quello e lì ci vuole qualcuno che semplicemente conosca strumenti per poter avere una geolocalizzazione precisa ricostruire come diceva Andrea prima che cosa che astri ci trovavano in cielo in quell'ora in che direzione erano quanto erano luminosi come era il clima come era se era freddo se era caldo se era ventoso sono tutti dati molto importanti da questo punto di vista ma vi sono mai serviti sono mai serviti a risolvere un caso diciamo i metadati per esempio di un immagine o di un video o di un audio sì assolutamente i metadati sono importantissimi nelle fotografie per esempio ci permettono di risalire alla modalità di scatto e quindi di capire se si sono creati artefatti si sono creati degli effetti ottici particolari in queste foto o come diceva anche Diego se ci vogliono bidonare se vogliono mandarci un mistero farlocco cosa è capitato qualche anno fa non so se ti ricordi Diego forse un paio di volte hanno mandato una fotografia con un evidente artefatto fatto con questi programmini queste app che inseriscono fantasmi nelle foto e ci hanno chiesto seriamente se era una cosa avevano fotografato se era un problema se insomma se era davvero la prova di un fantasma in realtà poi gli abbiamo fatto notare che dalla foto era evidente che era un fotoritocco e poi non ci hanno più scritto sì mancava solo il watermark dell'applicazione in cui fai i fotoritocchi mancava solo quello infatti io sto pensando al fatto che i metadati sono facilmente editabili quindi ora a prescindere dal fatto che uno faccia un vero e proprio fotoritocco e in quel caso vedo diciamo il software specifico con cui l'ho prodotto eventualmente però lo posso sia cancellare ma anche inserire dei dati che sono sono fasulli banalmente quindi le mie coordinate gps che vi riferisco non era dove ho fatto quello scatto per esempio sì però devo dire che in questi anni non ci sono praticamente mai stati casi in cui delle persone volevano proprio imbrogliarci in questo senso e quindi questa è una cosa secondo me molto positiva nel senso che chi si rivolge a noi ha davvero la voglia di scoprire cosa c'era dietro questo fenomeno e magari poi non accetta la nostra soluzione se io gli dico appunto come diceva Diego prima guarda che quel pallino luminoso è un effetto ottico che era un riflesso all'interno del tuo dispositivo e non era l'angelo che tu un angelo come era la tua ipotesi magari loro dicono va bene grazie però io continuo a credere negli angeli ok a posto non vanno oltre questa aggressività e l'unici che vi hanno trollato sono stati questi del fantasma ma non è bene da escludere che l'abbiano fatto senza nemmeno accorgersene non lo so potessero che avessero l'applicazione per fare questo genere di cose attiva e non ci hanno vadato io sono sempre forse troppo positivo da questo punto di vista troppo ingenuo però vabbè dai però se uno vuole vedere un po' di casistica delle nostre indagini posso fare un po' di pubblicità abbiamo pubblicato nel 2019 il quaderno del CICAP numero 28 che si chiama Detective dell'incredibile che raccoglie una cinquantina di casi che sono stati indagati dal comitato dal 2009 al 2019 abbiamo scelto questi 51 casi è un libro che è stato molto bello realizzare in collaborazione con Luigi Garlaschelli io e lui abbiamo fatto da editor ma poi ci hanno messo a mano un sacco di soci del CICAP molti del gruppo indagini che hanno messo in questo libro tante indagini che erano state indagate localmente negli anni in quel decennio ed è molto interessante io lo consiglio come lettura perché fa un po' da un po' una corazza contro i fenomeni più comuni che si possono ritrovare e ti aiuta un po' a venirne fuori da solo senza cascare nell'inganno ma ora non so se vuoi fare uno spoiler però il caso diciamo che ti ha dato più soddisfazione quello tuo preferito anzi poi se c'è nel libro vabbè vedi te però quello comunque comunque quando l'hai risolta hai detto genio per citare allora io sono un appassionato delle fotografie misteriose mi piacciono tanto un po' perché mi sono sempre piaciute da quando ero bambino poi ultimamente quando le indago un po' con il CICAP riesco a mi piace lo vedo un po' come una specie di gioco della settimana enigmistica di trovare la soluzione del mistero e quando si arriva alla soluzione del mistero il comunicarlo alla persona che ce lo ha ce lo ha inviato come dire è molto gratificante ma perché poi questa persona ci riscrive spesso e volentieri ringraziandoci meno male che ci siete voi che fate questo lavoro e che ci illuminate che ci date sicurezza tra uno di questi casi c'è stato tanti anni fa una ragazza che aveva mandato una fotografia un selfie che si era fatta con il suo fidanzato e Diego forse se la ricorderà perché ogni tanto la faccio vedere anche qualche conferenza si era fatta un selfie con il fidanzato e nella foto si vedeva lei ma a fianco sembrava esserci una specie di cadavere una specie di zombie e la ragazza aveva telefonato alla sede del Cicapapadova dicendo io sono terrorizzata perché tutte le volte che guardo questa foto vedo il cadavere vedo che sono zombie e mi chiedo che cosa sia mi chiedo se è sempre vicino a me e va a paura diceva non dormivo più perché pensavo di avere a fianco questa presenza allora ci ha inviato la foto l'abbiamo guardata girata riguardata ricontrollata fino a che non si è capito che era proprio un fenomeno ottico e quindi quello che si quello che si vedeva era proprio il suo fidanzato ma in realtà da come era messo dava proprio un'idea totalmente diversa gliel'abbiamo spiegata e quando gliel'abbiamo spiegata la ragazza ci ha poi riscritto dicendo grazie mille perché mi avete veramente tolto da un incubo ora dormo sonni tranquilli anche se il mio ragazzo è accanto a me vabbè tu scherzi da Sara ma di persone seriamente preoccupate per quello che ci mandano se ne vedono regolarmente cioè ci sono persone estremamente in Asia per quello che ci mandano ma non volevo mettere in dubbio che ci fosse diciamo il timore no 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 ci mancherebbe una componente umana molto importante si sente molto spesso io ricordo invece Andrea se poi rimanendo nelle foto se ricordo bene era una foto fatta a due bambini seduti in una camera in una stanza e si intravedeva come se ci fosse la mano di una persona che saltava fuori da dietro uno di questi bambini e ricordo che ci abbiamo lavorato parecchio e alla fine ne siamo saltati fuori perché sono riusciti a costruire un senso logico a quello che vedevamo però non era stato per niente semplice ricordo che nel momento in cui poi la spiegazione è saltata fuori non potevi più non vederla cioè c'era la spiegazione c'è questo il punto di non ritorno dopo il quale quello che è la spiegazione che riesci a dare alla foto descrive quello che stai vedendo e mi ricordo che mi aveva stupito un sacco ed è interessante il discorso perché quando una volta che il fenomeno è stato svelato il tuo cervello fa proprio uno switch e non vede più il mistero poi fa fatica a ritornare indietro a rivedere il fenomeno misterioso e poi ti tranquillizzi perché sono stato veramente stupido a vedere a vedere A invece che B eppure è così ma invece un caso non risolto che ricordi ce ne sono stati i casi ti faccio un esempio capita ogni tanto magari una volta all'anno una richiesta che può recitare tipo così vi scrivo perché 50 anni fa mi è capitato di vedere un UFO nel cielo che cos'era come facciamo a saperlo perché lui ce lo descrive come lo ha visto lui magari da bambino non ha foto non ha niente ha solo il suo ricordo e noi sappiamo che i nostri ricordi sono a volte pericolosi perché si modificano li montiamo li smontiamo cioè è difficile a un certo punto capire cosa poteva aver visto magari era un fenomeno assolutamente tra virgolette normale che lui non conosceva e che è stato scambiato in quel momento per una strona valiena chissà cosa ecco in quei casi noi alziamo le mani non abbiamo elementi per poter indagare una cosa del genere oppure altri casi in cui ci ci descrivono dei fenomeni magari ci mandano anche un video ma il video è assolutamente inutile inutilizzabile perché è tutto sfocato tutto mosso e quindi c'è solo la testimonianza della persona e lì si fa fatica ecco a volte possiamo dire soltanto cercare di tranquillizzare le persone spiegando che se il fenomeno non si è ripetuto non è stato più osservato poteva avere una spiegazione normale appunto è un po' come quando in casa senti strani rumori ci sono persone che pensano subito al fantasma invece di pensare al vicino di casa che sta muovendo ed è un po' a volte è un po' dare delle spiegazioni perché non lo hai sentito tu non l'hai visto tu poi ci sono quei casi in cui per risolverlo bisognerebbe avere un approccio magari psicoterapeutico di persona con le persone che hanno portato il caso davanti a noi perché magari è evidente che c'è qualche difficoltà dal punto di vista psicologico ma non puoi nemmeno essere tu a distanza a dirglielo quindi lì ti devi fermare dal punto di vista deontologico non puoi andare oltre e dire sì il problema sei tu che hai questa difficoltà non puoi e quindi anche quello diventa più o meno un caso irrisorto insomma purtroppo è così per forza di cosa chiaramente quando si va a indagare diciamo delle cose tutto sommato leggere potrebbe essere un riflesso su un muro diciamo su una parete diciamo lontana mentre chiaramente le foto quelle lì che coinvolgono diciamo presenze intorno a bambini o cose che sembrano morti intorno a te capisco che diciamo sono diverse oggettivamente quindi mi chiedo se oltre diciamo a questi esempi che avete portato delle cose proprio che hanno messo in difficoltà proprio il gruppo complessivamente dire che si fa in questo caso non lo trattiamo oppure dunque a me vengono in mente quei casi che entrano un po' nella sfera sentimentale un po' nella sfera della malattia delle persone e del presunto miracolo ok quelle persone che ci confidano dei loro problemi a volte anche di salute mentale perché ci scrivono dicendo io sono in cura da uno psichiatra perché vedo cose che non ci sono e quindi volevo capire se il CICAP può confermarmi che queste cose non ci sono ecco questo 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 tipo di richieste va va oltre quello che è il nostro compito perché noi non siamo degli psichiatri e poi non possiamo certo interagire con il medico che sta curando questa persona lì diventa veramente impossibile rispondere delicato è delicato sì troppo delicato no no ma chiaro questo questo mi torna e Diego a te ti viene in mente qualcosa? io ricordo più di un video ripreso da telecamera circuito chiuso magari notturne nei parcheggi anche all'interno di un box in cui si vedono delle luci che si muovono delle ombre che si muovono e non se ne salta fuori di capire cosa potrebbe essere se ti viene in mente se ti ricordi Andrea un paio di casi recenti che abbiamo ipotizzato un po' di tutto ma un po' ovviamente sai non puoi investigarlo in loco perché potendo investigarlo in loco metti altre due telecamere e cominci a restringere un po' la cerchia dei possibili colpevoli però da quello che abbiamo ricevuto via mail su queste registrazioni ci sono delle cose che tocca fermarsi e dire non ne ho idea non c'è niente di sbagliato nel fermarsi e dire non ne ho idea sì anche perché quello che quello che non viene capito non è che vuol dire che allora è paranormale è perché magari in questo momento non abbiamo gli strumenti il modo per conoscere meglio questo fenomeno cioè non possiamo fare un'indagine più approfondita di un fenomeno che non abbiamo a portata di mano o comunque che non si può controllare evidentemente chiaramente quando arrivano diciamo dei reperti a voi può essere quella qualunque quindi il controllo a meno ecco forse il caso più semplice se vogliamo è quando arriva una persona che sostiene di avere certe abilità a quel punto se una persona è disposta a lavorare insieme allora un'indagine si può fare a tutto tondo questo non è vero per reperti che sono diciamo presi in un istante temporale più o meno noto chiaro certo certo perché noi dobbiamo sempre basarci sui fatti su quello che abbiamo a disposizione in mano quello che è analizzabile è un po' come se una persona arrivasse da me dicendo io so fare il fenomeno ma non ve lo faccio vedere allora è chiaro che non possiamo non possiamo mettere non possiamo testare nulla quindi quindi si di case risolti ce ne sono per tanti motivi ma è normale che sia così insomma prima dell'ultima curiosità ti piace il nostro podcast la cosa migliore che puoi fare è dirlo in giro farlo conoscere ad amici e parenti se poi vuoi dimostrarci tutto il tuo affetto lascia pollici stelle mi piace e recensioni sulle piattaforme che usi per ascoltare i podcast te ne saremo molto grati infine se vuoi contattarci ricordati la nostra mail podcast schiocciolacica.org stavo avvenendo un'altra domanda ma mi fermo non la faccio non la faccio vabbè insomma tu falla ci sono problemi stavo per chiedere tipo la risposta migliore che vi è stata data da una persona che ha chiesto di verificare qualcosa tipo a parte il grazie e vabbè tutto lì quello che quell'altro che non risponde no vabbè ma io continuo a credere alla cosa X beh ci siamo presi un po' di insulti ogni tanto ma un po' di vabbè ok cose semplici comunque sì solo insulti lo so vuoi che sia ma qualcuno ci ha detto di redimerci una volta Diego abbiamo altre domande per Andrea se non gli viene in mente adesso al volo cosa possono essere quelle registrazioni delle camere di circuito chiuso nei nei parcheggi privati no ci dobbiamo pensare ancora un po' perché io ricordo che quella veramente me l'ero appesa perché vabbè io faccio tecnico informatico quindi mi capita di installare telecamere ne ho viste tante registrazioni ma caspita vabbè è bello io parlo da persona che segue il gruppo indagini più o meno attivamente è molto divertente e formativo come diceva prima Andrea perché si imparano un sacco di cose e sei stimolato ad avere a che fare con molte altre persone che spesso ne sanno molto più di te all'interno del gruppo di qualsiasi cosa per quanto mi riguarda quindi è molto è molto formativo e divertente ma di solito di solito che prove portate cioè se io faccio tipo la risposta diciamo a un caso che non è un'immagine quindi non è una questione di riflessi ok che tipo di prova portate alla persona che ha chiesto che ha fatto la domanda beh a me viene in mente il caso del fantasma al castello in Francia che era nato da una fotografia questo signore ci manda due fotografie scattate una un secondo dall'altra di un chiostro di questo monastero di questo castello e in una c'è sul muro di fondo c'è un fantasma c'è una una donna che sembra proprio un fantasma e nella foto seguente non c'è e lui dice io non l'ho vista con gli occhi ho fatto due foto una dopo l'altra perché in una c'è in una non c'è e le fotografie erano vere cioè non erano truccate erano delle foto dai tempi dati abbiamo estrapolato l'orario quindi erano proprio due foto il stesso giorno praticamente quasi nello stesso istante come mai una donna sulla parete di fondo e nella foto seguente non c'è più c'era una donna si vedeva una donna oppure era proprio vedeva vedevate il naso la bocca quindi la foto bisognava zoomarla molto però si vedeva proprio una donna come se fosse una donna fantasma sul muro come nei film insomma esatto esatto e mi ricordo che ci abbiamo discusso quasi una notte intera nel gruppo indagini perché uno diceva è un riflesso sì ma un riflesso può creare una figura così perfetta abbiamo iniziato a guardare il sole dove era le finestre che potevano fare riflessi e niente non quadrava nulla di tutto ciò fino a che a un certo punto Garlaschelli un nome a caso secondo me ha guardato tutta la notte su internet ha trovato su TripAdvisor vedi cosa serve per svelare i misteri serve anche TripAdvisor me la ricordo ha trovato altre due foto prese sempre in quel periodo in una cera questo fantasma ed è andato a vedere chi l'aveva scattata in che occasione e in quel castello in quel mese di agosto c'era una mostra dedicata alla alla sovrana che aveva voluto la costruzione di questo monastero e si è scoperto che durante questa mostra proiettavano degli ologrammi sui muri del castello e questi ologrammi si attivavano quando passava la gente e poi sparivano il il mittente che ha scritto noi la prima volta probabilmente non si è ricordato cavolo ci sei stato a vedere questa mostra è possibile che non hai visto e niente non se lo ricordava e e non aveva notato questa questa particolarità e poi quando gli avevamo fatta notare ci ha ringraziato però vedi tutto nasce da aver perso un particolare vagamente importante c'era la mostra dedicata a questa signora a questa dama e lui aveva subito fatto 2 più 2 o fotografato un fantasma ma quindi la prova che è stata data è stato il sito in cui c'era la mostra esatto si vedeva la foto la stessa palesemente la stessa foto che era stata fotografata che mostrava il proiettore che produceva quell'immagine si che è vero da sarà che chiudiamo col fantasma del castello si chiudiamo il fantasma del castello grazie Andrea per essere stato con noi e averci svelato qualche mistero grazie Andrea e sul sito del comitato trovate l'area del sito rigurante del gruppo indagini con tutte le informazioni a riguardo e non dimentichiamo anche il quaderno che avevi nominato prima si detective dell'incredibile che è nel bookshop del ciclo ma se uno digita su google il titolo lo trova si metteremo il link anche nella descrizione della puntata bene ciao a tutti grazie ancora ciao alla prossima ciao a tutti grazie grazie a tutti